Ragazze, buongiorno e benvenute in un nuovo vlog, oggi primo novembre, quindi auguri a tutti quanti, oggi è la festa dei tutti santi, quindi vi faccio i miei auguri, spero che stiate riposando, insomma che vi sia possibile che il lavoro ve lo permetta, io mi sto riposando, Riccardo tra virgolette, perché sta facendo le notti in questo periodo e quindi si riposa più che altro la mattina e poi il pomeriggio appunto sta con noi e poi la sera va a lavoro. Detto questo, stavo un po' riordinando qui la camera da letto, tra l'altro dopo devo farvi vedere una cosa e siamo reduci appunto dalla giornata di ieri che è stata stancantissima perché a parte che aspettavo appunto che mi arrivasse la nuova, nuovissima macchina fotografica, sono contentissima, è una reflex che mi serve appunto per il lavoro e quindi finalmente ho potuto prenderla per andare a sostituire quella che avevo che era stravecchia e poi quella che avevo ancora prima l'avevo venduta per prendere l'osmo pocket, la prima osmo pocket che avevo, invece poi anche quella l'avevo sostituita perché si era rotta, vi ricordate? E quindi ho preso la bianca, quella la combo, la pocket 2. Comunque, quando le ciance ieri siamo stati veramente, ci siamo arrivate a casa distrutti ragazzi, alla fine abbiamo raccattato tipo, buh, Alessandra mi è riuscita a farsi dare tipo 4 kg, 5 kg di caramelle, cioè veramente l'hanno riempita. Ah, dopo vi faccio vedere. Detto questo stavo appunto riordinando un po' in giro anche il microfono, due tre cosine, e mi metto via anche l'agendina nuova che ho preso, che appunto è questa qua del 2024 della Mr. Wonderful che ho preso con Sara l'altro giorno, vi ricordate? E' bellissima dentro, visto che so già che tante di voi sono amanti delle agende e me lo chiederanno, ve la faccio vedere un po' meglio dentro, per fare un po' di corsa lì in macchina. Comunque davanti avete un sacco di adesivi, ma veramente di ogni genere e tipo, veramente molto originali, tutti gli adesivi carinissimi, e questi sono tutti tutti adesivi, veramente tanti. E poi inizia appunto il mio nome, ma è molto moderna, molto strutturata, davvero carina qua tutti i giorni, insomma. Poi ogni mese ha la tabellina, per me ragazzi questa cosa è abbastanza essenziale, dico la verità, perché mi segno proprio le cosine particolari di tutto il mese, ho una visione più generale. Poi c'è anche l'oroscopo, vabbè non lo leggo, porta male, perché è del 2024, lo leggo poi inizio anno, e poi ci sono appunto, come piace a me, ogni giorno una pagina, perché comunque devo segnarmi sempre un sacco di roba. Quindi insomma, preferisco avere più spazio. Qua delle note, qua sopra, quadrettini, non so se vedete. No, qua scusate. E poi sotto tutta la paginetta. E poi cos'altro vi posso far vedere? Perché poi so già che me lo chiedete, perché tante di voi magari devono prendere la nuova agenda dell'anno nuovo, e ogni mese ha il suo inizio con la tabellina, con dei consigli diversi, eccetera. Ogni tanto una frasetta motivazionale qua sotto, tipo così, con dei memorandum. Vedi, tanto cercare, tanto cercare, quando le persone migliori poi arrivano senza avvisare. E' verissima questa cosa. E' davvero vera. E' buon, quindi è tutta così. Poi vi faccio vedere anche al fondo, ma non mi pare che ci sia nulla. Nulla di di che. Ci sono delle note in fondo. Ah sì, questo mese ci sono in fondo anche delle tecniche, a parte una sorta di rubrica. E' un calendario 2025, qua. Quindi finisce dicembre, c'è un calendario 2025, e poi qua c'è dei numeri importanti da segnare. E qua abbiamo una tabella che aiuta a risparmiare. Tipo, qui per risparmiare qualche soldino, con le settimane, gennaio, febbraio, giugno, maggio, tutti quanti mesi. E poi delle note. Molto semplicemente. E quindi questa è, però, oddio, non riesco più a chiuderla, però me la tengo, me la metto via, perché inizia tanto da gennaio, quindi adesso mi devo finire l'altra, e questa ne inizio poi. A gennaio già la mia agendina nuova. E poi che altro? Volevo far ridere niente. Sto sistemando solo un po' di cosine, c'è un attimino da riordinare. E basta. Adesso lascio un attimino il telefono in carica, poi scendiamo che vi faccio vedere una cosine che mi è arrivata. Molto molto utile e particolare, ma soprattutto made in Italy, e quindi sapete che a me piace un sacco appoggiare le aziende italiane, quindi ci tengo a farvela vedere. Grazie a tutti. Ragazze, eccomi qua. Allora, felpina, ho aggiunto una felpina, perché oggi pioveva anche, e abbiamo acceso appunto la stufetta, e ci siamo visti un film che mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Vi dico dopo il titolo perché mi sfugge, però è un film su Netflix, veramente bello, è una sorta di thriller psicologico, che mi è piaciuto. Poi ti lascia proprio un po' col fiato sospeso, non lo so, è pieno di colpi di scena. Bello, bello, ve lo consiglio. E ovviamente a tipo dieci minuti dalla fine ci ha svegliato Alessandra, quindi siamo tutte e due così. Come finirà? Chi è stato? Come era? Cioè, perché non si è ancora capito, c'è proprio fino all'ultimo. E quindi, bello, bello. Ve lo straconsiglio, dopo che scendo vi dico con Riccardo il titolo. Detto questo, come promesso, vi parlo di questo prodotto che mi è arrivato da farvi vedere, che mi ha colpito veramente tanto, perché sapete che non accetto tutte le collaborazioni, me ne arrivano diverse, ma questo marchio qua mi ha sorpresa, a parte che è un marchio italiano. Made in Italy, quindi mi ha colpito tanto per la loro idea, per il materiale che utilizzano, un po' innovativo, diverso, biodegradabile. Insomma, ora vi spiego. Praticamente il marchio è bazza, ragazze, che ringrazio e saluto. Lo vedete qui in lucido, c'è il marchio qui e c'è il marchio anche qui, dove appunto, tra l'altro, si possono anche incidere le proprie iniziali. Io ho avuto, appunto, sono stati gentilissimi, mi hanno chiesto se volevo anche le iniziali, e quindi ho fatto incidere RB, non so se lo vedete, RB lì in lucido, nel cerchiolino dove c'è scritto Made in Italy, e appunto sotto bazza. Io ho il modello con anche l'AirTag, all'interno qua. L'AirTag della Apple, che per chi non lo dovesse conoscere, è un accessorio, un dispositivo, che serve per ritrovare diversi oggetti, come può essere un mazzo di chiavi, appunto un portatessere, un portadocumenti, un portacarte, oppure, insomma, qualunque altra cosa che, che di vostro interesse ritrovare, ecco, quindi, ognuno lo mette un po' dove, dove preferisce. E quindi c'è la versione, semplice, senza AirTag, oppure la versione con AirTag e iniziali. Quindi vi lascio ovviamente in infobox, sempre tutti i loro riferimenti. Ve lo faccio vedere aperto, tra l'altro è realizzato, non è in plastica, ragazze, è un materiale super innovativo, che si chiama, se non sbaglio, Bliss. Comunque vi metto qui la spiegazione di questa parola, che racchiude diverse, diversi significati. ed è un materiale innovativo, tutto nuovo. Addirittura, se non ho capito male, a base di fagioli anche, mi pare proprio che sia così. Si apre, si apre in questo modo qua, e all'interno è fatto così. Semplicissimo, ma realmente indistruttibile. L'AirTag si può anche rimuovere, quindi se lo acquisterete, se avete già l'AirTag, per esempio, appunto acquisterete solo, il portadocumenti, il portatessere. Se invece lo volete acquistare con l'AirTag, lo acquistate. Io tra l'altro, devo ancora installarlo. Quindi adesso lo faccio, vi faccio vedere qui di lato, come ho fatto. Però bisogna rimuovere la pellicolina. E ha già suonato, avete sentito? Ha fatto... Che carino! Io non ho mai avuto l'AirTag. È veramente graziosissimo. Mi piace un sacco il fatto che ti danno la possibilità di averlo incluso, così non dovete fare due acquisti e acquistarlo a parte, ma ve lo danno, ve lo inseriscono direttamente loro. Togliete la cartina, questa qua ha la protezione, e lo cercate sul vostro dispositivo Apple e ve lo trova in automatico. Adesso io lo faccio subito, così vi faccio vedere qui di lato. Oppure ve l'avrò già fatto vedere? Probabile. Eccomi qua con il mio portafoglio. Notate la differenza. Leggerissimo, ragazze. Pesa 20 grammi. 20 grammi e ci stanno fino a 12 carte o banconote piegate, ricevute, carte del supermercato, come vi dicevo, potete scegliere voi, però ben 12 postazioni, quindi veramente tante. Io ho portato sul mio portafoglio perché voglio già inserire le carte all'interno, quindi faccio tutto e vi faccio vedere poi come si chiuderà. Però è stato proprio studiato per essere comunque super pratico, super adattabile a qualsiasi situazione, in tasca, in borsa e poi l'air tag neanche si sente nonostante tutto perché è proprio all'interno, perfettamente dentro la struttura quindi del portacarte, quindi spettacolare. Io adesso l'ho già installato, vi ho fatto vedere un po' qualcosina perché c'erano dati sensibili, però adesso vado a mettere tutte le carte e vi faccio vedere dopo. Ragazzi, è fatto e questo è il risultato. Cioè, veramente, sembra di non averle neanche messe, è uguale a prima. Cioè, comodissimo. Voilà. Ne ho messe per ora una, due, tre, quattro, cinque, sei, due, tra l'altro, le ho messe insieme. Cioè, proprio super, super pratico, comodo e per la borsetta è qualcosa di super. Se non lo trovate, dal cellulare lo potete far suonare, l'air tag, oppure potete attivare il dov'è, e lo trovate tramite mappa, appunto, sempre sull'iPhone. Quindi, super promosso. Cioè, a me piace tantissimo. Non è plastica, non deriva da petroli, eccetera, ma dai fagioli, per una certa percentuale, è veramente super, super innovativo. Quindi, ringrazio assolutamente, Bazza, per avermi inviato questo giocattolino super utile. Non lo so, è veramente utilissimo. e soprattutto il materiale, non ha, tra l'altro, colle, cuciture, nulla di tutto ciò. Quindi, è difficilissimo che si vada a distruggere. Cioè, sembra veramente a toccarlo, indistruttibile. Quindi, vi dura un sacco di tempo. Andate ad ammortizzare assolutamente la spesa nel tempo, perché non va cambiato, non va sostituito. Quindi, vi lascio tutti i riferimenti in infobox. Un saluto a Bazza. e niente, proseguiamo questo vlog, perché adesso vado a fare risotto alla zucca. Voglio non risotto alla zucca, quindi, andiamo. Ragazze, buongiorno. Non ho finito di nuovo il vlog ieri, ma ero veramente stanca e ci tenevo tantissimo a finire di editarvi il video che è già uscito, visto che un po' di giorni che non ci vedevamo, stamattina alle 9, ve l'ho pubblicato. Spero vi abbia strappato un po' un sorriso, perché io e Sara quando siamo insieme è sempre così e ci scassiamo da ridere, quindi spero di aver divertito un po' anche voi. Faccia sonnata, assolutamente non truccata, perché stamattina tanto non devo fare nulla di che, però mi darò una sistemata poi più tardi, tanto dovrei farmi doccia e capelli, però piove, quindi non lo so, farò poi in giornata barra stasera, perché domani appunto la giornata sembra essere un po' più bellina, soleggiata, e poi ho un appuntamento di lavoro, quindi sicuramente stasera doccia ai capelli, entro oggi, insomma vedrò se adesso, stasera, insomma in qualche momento lo farò, e niente, quindi sono arrivata ora, ho portato i bimbi a scuola, post festa, però sono contenti che comunque è già giovedì, quindi il bello di quando la festa è nella metà della settimana, spezza un po', insomma oggi e domani poi sono di nuovo a casa, e basta, quindi niente, era giusto per darvi il buongiorno, un buongiorno molto assonnato, stamattina ho fatto molta fatica a svegliarmi, mi sono già tenuta fuori il portatile, e tutto perché voglio finire di montarvi anche il vlog che ho girato ieri, dove vi faccio vedere appunto il portacarte che a me è piaciuto un sacco, specie per l'air tag, è proprio utile, ma mi è piaciuto proprio il fatto che sia indistruttibile, vi dico la verità, perché a me puntualmente i portafogli si scuciono, le zip non funzionano più nel tempo, per carità, però fa piacere sapere che hanno inventato questo materiale indistruttibile, e quindi mi piace molto quello, mi piace il fatto che si possa personalizzare con le iniziali, mi piace, mi è piaciuto veramente tanto, lo trovo molto molto innovativo, e soprattutto protetto, appunto grazie all'air tag che fa un po' da antifurto, perché lo si può far suonare, lo si può cercare, e lo si può ritrovare, quindi quello è notevole, e niente, fatemi sapere se vi è piaciuto, tra l'altro c'è un codice sconto per voi, non vi l'ho detto ieri, ma forse ve l'ho scritto di sua impressione, comunque vi lascio tutto in infobox, così potrete acquistarlo scontato, niente, io adesso vado a casa, ci vediamo tra poco, ragazzi, niente da fare, anche questa volta non ho finito il vlog, perdonatemi, non so più cosa dire, veramente, però in compenso, ero rimasta appunto che avrei dovuto lavarmi i capelli, quindi li ho lavati, li ho lasciati naturali, però penso che domani li stirerò, ho voglia di cambiare, perché sono già tipo due o tre lavaggi, in cui li sto lasciando sempre ricci, però ho voglia di vedermi anche un po' liscia, sinceramente, quindi domani vedrò di stirarli, oppure di stirarli, ma di fare i boccoli fatti bene con la bellissima, insomma, adesso vedo, e niente, tra l'altro, Alessandra non sta di nuovo bene, ragazze, infatti, è anche per quello che non ho più filmato, ci ha chiamato la scuola in realtà tipo dieci minuti prima dell'orario di uscita, quindi Riccardo era già per strada e dove appunto proprio Alessandra dopo pranzo ha proprio rimesso il pranzo e quindi niente, dice che appunto la maestra che ha lamentato anche un po' di mal di gola ed effettivamente poi a casa è peggiorato questo mal di gola, quindi insomma stiamo tutti attenti a non starle proprio attaccatissimi, anche se la mamma è la mamma, ragazzi, ormai lo sapete, quindi essendo che io sono molto delicata di gola, sto scongiurando di non prendermi nulla, in ogni caso le abbiamo messo appunto già lo spray, quelli al propoli, quelli calmanti, eccetera, e con quello va decisamente meglio, poi appunto tachipirina perché oggi la sentivo un po' un po' caldina, un po' molto stanca, quindi insomma, vabbè, ragazze, probabilmente non lo so, l'era passato quel raffreddore abbastanza bene, abbastanza in fretta, e adesso andiamo di gola, non so più cosa dire, è molto delicata, comunque siamo solo al secondo anno di materna, quindi ci sta, forse ci sta, e niente, vedremo come va, speriamo che tenga duro, insomma, che non diventi un influenzona, e basta, li aggiornerò, comunque tanto domani faccio un altro video, anche perché ragazzi, mi devo organizzare assolutamente, anche perché non manca tantissimo, poi a dicembre all'inizio dei vlogmas, e quindi voglio prendere ritmo, avere un po' di vantaggio con i video, quindi sicuramente almeno da metà novembre devo aver ripreso un po' il ritmo, e niente, vi mando un grosso bacio, vi do la buonanotte, tra l'altro mi sto rilassando un po' al computer con il caminetto di Netflix, perché, perché sì, poi stasera sono sola, finalmente l'ultima sera sola, perché finisce oggi le notti, quindi, finalmente domani sarà, stiamo un po' insieme, magari ci vediamo un filmetto, perché comunque, magari a volte le prime notti ci stanno, che hai un po' di tempo per, che ne so, farti le unghie, fare le tue cose, però, poi, comunque dopo un po' mancano, c'è niente da fare, comunque ho fatto le unghiette, che facevano veramente pena, sempre corte, perché scrivendo comunque molto al computer, ultimamente, lunghe non riesco a tenerle, e le ho fatte tipo un, rosa antico, con l'anulare un po' più shimmer, diciamo, poi se la smetto anche di rimangiarmi le pellicine, mi faccio un favore, così, insomma, anche questa, guardate lì, annaggia, moledetta, va bene, vado, lo voglio bene, a domani, ciao!